Ciao a tutti da Il Salvatore, grandissima sorpresa per tantissimi, la bellissima Demetra Ancon che ha una sorpresa per tutti i suoi fans. Grazie a tutti i miei fans, buon 2015, spero che andrà tutto bene, saluto, lavoro, pace il mondo e tanto felicità, tanto solo e carità, piuttosto, grazie, vi sono bellissimi il salto, ciao a tutti!